Buonasera a tutti carissimi, un saluto da Mezzugorje, leggiamo, riascoltiamo e commento brevemente il messaggio che la Regina della Pace ci ha lasciato pochi giorni fa, il 25 agosto scorso. Cari figli, oggi la mia preghiera con voi è per la pace. Il bene e il male lottano e vogliono prevalere nel mondo e nei cuori degli uomini. Voi siate uomini di speranza, di preghiera e di grande fiducia in Dio creatore, al quale tutto è possibile. Figlioli, la pace prevalga in voi ed attorno a voi. Vi benedico con la mia benedizione materna affinché, figlioli, siate gioia per tutti coloro che incontrate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco carissimi, allora un messaggio di speranza perché tutto quello che succede nel mondo ma spesso anche nella nostra vita tende a toglierci la gioia. Lo spirito del mondo vuole condurci nella tristezza, lo spirito di Dio vuole condurci alla gioia. Però ecco la parola che ritorna più frequentemente in questo messaggio ma anche in tutti gli ultimi messaggi della Regina della Pace è proprio la parola pace perché oggi c'è bisogno di questa pace. Questa pace non è il frutto di un evitare i problemi ma anzi è il frutto di un combattimento, cioè il combattimento tra il bene e il male. Il bene e il male lottano e dove lottano? Lottano anzitutto in noi stessi e poi lottano anche attorno a noi. Vediamo quello che sta accadendo nel mondo. Ora certamente questo combattimento tra il bene e il male non riguarda solo i grandi uomini di Stato con questa guerra che si è scatenata nel mondo, Putin, il presidente dell'Ucraina e via dicendo. No, qui c'è di mezzo una guerra che lo spirito del male vuole scatenare in tutto il mondo, ci sono tantissime guerre in corso e una mancanza di pace che riguarda anzitutto i cuori. Per la seconda volta ultimamente la Madonna ha detto la pace prevalga in voi ed attorno a voi. Dicevo che questa pace è il frutto di un combattimento tra il bene e il male, è il frutto cioè di un lavoro spirituale che gli apostoli di Maria devono realizzare. Per questo la Madonna ha detto voi siate uomini di speranza, di preghiera e di grande fiducia in Dio. Se combattiamo questa mancanza di pace in noi, allora saremo anche strumento attorno a noi. Credo che questa pace a cui allude la Madonna altro non sia che il regno di Dio nelle anime, il regno di Gesù Cristo preceduto dal suo regno, dal regno del suo cuore immacolato. Per questo credo che il più bel commento a queste parole della Regina della Pace siano il numero 113 del Trattato della vera devozione a Maria, dove Montfort scrive «Più che mai sono portato a credere e a sperare che si realizzi tutto ciò che ho profondamente impresso nel cuore e che da molti anni vado chiedendo a Dio, cioè che presto o tardi la Santissima Vergine avrà sempre più figli, servi e schiavi d'amore e che per questo mezzo Gesù Cristo, il mio caro Maestro, regnerà sempre più nei cuori». Questo è anche il mio augurio, fratelli e sorelle, e alla benedizione che la Regina della Pace vi ha dato, aggiungo la mia benedizione sacerdotale, chiedendo anche le vostre preghiere. E da qui, da questa terra benedetta, da Međugorje, il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, e di San Luisi Maria di Monfort vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.